Estate 2022 torna a Chianciano Terme l'impegno dei ragazzi della festa della musica con una formula diversa dal solito ma in continuità con quello che abbiamo imparato ad apprezzare negli anni. È la Pop Up Fest che si terrà il 20 e il 21 di agosto presso il Parco Fucoli di Chianciano Terme, sabato e domenica sempre ad ingresso gratuito. La line-up prevede non solo musica e cibo a chilometri zero ma una serie di attività collaterali che porteranno la festa ad invadere i cinque sensi del corpo umano. Tra le attività collaterali sabato 20 dalle 9 alle 11 yoga terapia con Alessandro Ercolani, dalle 17 alle 19 workshop di fotografia, Dalle 19 in poi continuerà anche durante i concerti il live painting con Pocio. E quindi la musica, sabato sera, Ciulo e Umas, Freda Sterro, L'Eletronica, DJ Muffa, Lapo from Numa Crew. E domenica si riparte sempre ad ingresso gratuito già la mattina dalle 9.30 alle 12.30 con una lezione del Teatro Danza organizzata da Impluvium, l'associazione culturale nata nel 2021 a maggioranza giovanile che si occupa della promozione della cultura teatrale e della socialità attraverso le arti performative. Poi a partire dalle 17 la lezione di Armocromia con Francesca Batelli. L'armocromia è il primo step della consulenza di immagine. È un metodo oggettivo attraverso il quale si evince la caratteristica cromatica della persona e con il quale si riesce ad esprimere al meglio se stessi mantenendo appunto un'armonia in tutto e per tutto. Poi alle 18.30 una chiacchierata con Chianab, una rete di professionisti volontari della Val di Chiana che ha l'obiettivo di creare relazioni basate sulla condivisione di esperienze e conoscenze. È uno spazio al servizio di persone, enti e aziende che vivono e che vogliono creare nella comunità. E la sera l'attesissimo incontro, domenica sera, l'incontro musicale con Irene Grandi presso l'arena del Palamonte Paschi dalle 22.00 a seguire per chiudere la serata in arena esterna DJ Ferdi. Tutti i giorni in funzione il servizio bar con aperitivo a partire dalle 19.30 e il servizio ristorante con le migliori specialità toscane aperto sempre dalle 19.30. Il menù propone il meglio della cucina locale e della cacciagione con prodotti a chilometro zero serviti nello splendido scenario del Palco Fucoli di Chianciano Terme. Il 20 e il 21 agosto è la Pop-Up Fest. Il 20 e il 21 agosto è un'attesità di 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 un'att